a prescindere da ciò che si pensi della linea adottata da giorgia meloni mi colpisce leggere dichiarazioni articoli con parole offensive nei suoi confronti anche da parte di chi fino a ieri la elogiava un conto è un dissenso politico lecito un altro utilizzare toni offensivi e attacchi personali il rispetto non solo verso un leader ma anche nei confronti di una lunga storia e tradizione di una comunità politica deve essere alla base di ogni analisi e mi sembra molti che non sono d'accordo con le sue posizioni se lo siano dimenticato così il presidente della fondazione tatarella e di nazione futura francesco giubilei Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!